Paolo Arena del Circolo Metropolis, una delle associazioni che fanno parte di questo comitato mare libero che aveva sollevato gli scudi per l'accesso libero al mare dei faraioni. Adesso c'è la novità che questo ticket d'ingresso è lievitato a 7 euro perché comprende anche il museo. C'è una posizione da parte vostra? Questo è un pericolo che noi avevamo paventato perché la privatizzazione di fatto del mare dei faraioni comporta la possibilità assoluta della proprietà di disporre a suo completo piacimento dell'accesso e quindi di farne quello che vuole. Questo era quello che noi non volevamo. Noi abbiamo fatto una battaglia che è durata più di 10 anni per un diritto secondo noi inalienabile, l'accesso libero al mare fino alla fascia demaniale che lì esiste a onta di quello che dicevano e non so se ancora lo dicono i proprietari della Tonnara. Diciamo che però poi alla fine TAR e CGA hanno dato ragione ai proprietari. Gli ambientalisti avete sollevato gli scudi e adesso c'è stata qualche levata di scudi da parte di alcune associazioni? Noi abbiamo fatto questa battaglia a una quindicina di associazioni tutte del territorio, quindi è stato il territorio che si è ribellato alla privatizzazione. Soltanto alcune associazioni ambientaliste, in primis il Lega Ambiente, hanno sposato la posizione dei proprietari essendo d'accordo al pagamento di un biglietto di ingresso. Noi abbiamo sollevato, come dire, chiamiamole metaforicamente barricate contro la privatizzazione e ci siamo trovati accanto l'allora giunta Coppola che, devo dire, stimolata da noi, ha assunto delle posizioni coraggiose come quella del 10 luglio del 2015 che ha liberalizzato, seppur purtroppo per un breve periodo, l'accesso al mare di Scopello, gestendo in quei 15 giorni in cui l'ha fatto, in maniera egregia, il flusso delle persone e la pulizia delle spiagge. Adesso su questo biglietto che è schizzato a 7 euro, pensate di fare qualcosa, un documento, una protesta? No, non riteniamo di dover fare una protesta perché riteniamo che sia stato vergognoso, come dire, vergognosa la decisione del Tarre, come dire, convalidata dal CGA. Noi non l'abbiamo condivisa, abbiamo fatto allora un comunicato. Le motivazioni del Tarre sono state motivazioni risibili. Tra le motivazioni c'era quella che, come dire, si poteva dare documento all'acciottolato del Settecento, quando poi, fino a pochi anni fa e anche tuttora io presumo, quando vengono le troupe televisive per fare le riprese dei film, scendono giù dei camion su quell'acciottolato o in prossimità di esso. Quindi erano delle motivazioni risibili. Tra l'altro la motivazione del Tarre non ha tenuto conto, pur citandola, di una sentenza del VAS Via del 2008, dell'assessorato regionale, che invece diceva che il flusso di persone di per sé non reca un documento alla struttura purché non si acceda con mezzi motorizzati, che era la cosa che noi volevamo.